salve a tutti oggi primo video sulla cameo 3 ho detto video ma è più una guida questa poi nei giorni che verranno farò anche video per vedere come funziona la macchina siccome da alcuni utenti mi è stato richiesto dove scaricare il software visto che nella scatola con le versioni precedenti da un'indotazione sia manuale che il cd del software in più la card per i disegni mentre con la cameo 3 tutto questo non c'è quindi ce lo dobbiamo scaricare anzi mette proprio un un cartellino attaccato alla silhouette che dice che bisogna andare nel sito della silhouette america e io sono nel loro sito allora premetto io ho scaricato da questa finestra qua anzi prima di tutto chi ha già un account registrato si entra ci loghiamo io entro con la mia email e la mia password mentre per i nuovi bisogna che vi registrate un account sul sito loro questo serve anche per poi comprare i disegni bene detto questo allora io dicevo io avendo già il software installato lo voglio aggiornare ho fatto aggiornamento software e dal di qui mi sono andata a scegliere la versione ultima qui c'è per mac o windows io le ho scaricate tutte e due perché ho tutte e due anche se in realtà un mac molto vecchio non so neanche se poi il programma funzioni comunque io ho scaricato da lì qua ma volendo specialmente per i nuovi i nuovi che ancora non hanno provato ad avere la cameo nella 2 nella 1 quindi è il primo approccio io vi consiglio di scaricarlo dal sito dove dicono loro quindi bisogna scrivere www silhouette america puntocom slash setup vediamo invio ho messo setup con la lettera maiuscola e mi dice che non è trovato ecco qua e ci troviamo in questa schermata qua qui vedete ci sono le lingue da scegliere purtroppo in italiano ancora non c'è quindi facciamo continua dobbiamo io ora me lo da in italiano perché ho messo il traduttore ma non c'è ancora in italiano ora dobbiamo cliccare qui vediamo tutte le macchine sulla silhouette cameo 3 e clicchiamo ed ecco qua che ci appare la finestra della registrazione della cameo mi raccomando la dovete fare altrimenti non vi viene dato il codice per scaricare i 25 dollari di disegni quindi questo vi obbliga a fare che poi vi verrà mandato in email il codice bene io l'ho già fatto qui dovete mettere il vostro indirizzo la provincia il codice postale così via qui il numero di serie il numero di serie lo trovate dietro alla macchina alla cameo sotto al codice bar ed è un numero di diverse cifre adesso non mi ricordo quante sono però comunque c'è solo quello guardate dietro alla vostra macchina qui la data d'acquisto che avete comprato la cameo il nome del negozio logicamente www.creativamenteplotter.it e negozio di milano e poi si fa invia registrazione qua vi dice anche dove trovare il numero di serie bla 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 ma ve l'ho già detto nella fase 2 qui possiamo vedere quello che c'era nella nostra scatola nella confezione che ci è arrivata vedete qui vi dice come attaccare la cameo qui è quello più importante perché ci dà da scaricare il software silhouette studio allora io ho quello completo io non so voi cosa decidete di fare però io lo consiglio comunque questo è free chi ha il mac lo può scaricare cliccando qui e chi ha windows lo può scaricare cliccando qui una volta scaricato non fate altro che lanciarlo e vi installa tutto qui vi dice che una volta che avete attaccato la cameo al computer con il cavo usb automaticamente vi scarica dei disegni dovrebbero essere 100 immagini io l'ho fatto mi ha scaricato ora non mi ricordo non ho visto bene se sono tutti 100 perché io già ne avevo tante quindi non so quali sono però qualcuno me ne ha scaricate mentre qui lo dice vedete per chiedere l'abbonamento di un mese per il codice che appunto ci manderanno in mail dopo che avete fatto la registrazione della macchina e qui vi dice di cliccare sul link iscriviti e salva e save che si trova lungo la parete superiore dello store dopo vi faccio vedere dove poi dovete andare nella sezione scelgo il mio abbonamento andiamo nella sezione pagamento e fatture info e dobbiamo inserire il codice che ci viene dato in mail e poi cliccare su apply e così abbiamo a disposizione il nostro 25 dollari di di disegni io adesso non so quanto è preciso ma sarà circa 20 e qualcosa non lo so comunque voi vi trovate poi nel vostro account che c'è scritto 25 appunto dollari poi ve lo faccio vedere qui dice di controllare questo aggiornamento io penso di averlo fatto quando ho fatto aggiornamento software ma ha fatto software ma ha fatto tutto perché io poi ho dato ok a tutto e mi si è aperto una finestra di un altro programma che non l'avevo mai fatto quindi deduco che sia questo voi comunque se lo scaricate dal di qui il software o fatto aggiornamento vedete voi io mi scaricherei anche questo poi qui dice leggete dice che l'interruzione del processo di aggiornamento di questo di questo programma potrebbe rendere la silhouette cameo inutilizzabile quindi prima bisogna verificare se nel computer esegui il programma di aggiornamento e deve rimanere acceso tutto durante appunto l'aggiornamento senza scollegare o spegnere la silhouette cameo a meno che non ve lo dice il programma qui andiamo nella sezione dove c'è la guida e il manuale prima erano presenti in scatola ora lo dovete scaricare ed è tutto in pdf e andarlo a consultare ogni volta che vi interessa sapere una certa cosa ok poi l'ultimo passo che a me è quello che comunque sarei più interessata perché avendo un piccolo spazio almeno così quando faccio i video lo faccio dove si vede tanta luce anche se il pc non è vicino perché posso farlo con il bluetooth devo capire bene come fare l'aggiornamento come fare l'installazione ma vi posso assicurare che appena riesco faccio i video solo per questo la guida solo per questo bene ora vi faccio vedere dove dobbiamo mettere il nostro codice una volta che voi avete fatto l'iscrizione avete registrato la vostra macchina andiamo sul potete andare dal di qua o anche dal programma quindi se andiamo scusate ho detto una boiata quindi vado dal programma apro silhouette ok 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 Questo è il nostro programma. Vi voglio spiegare che di nuovo c'è anche questo. Ed è il cloud. Vedete? Ogni volta che entrate dovete mettere il vostro account. Potete cliccare o qua e vi apre questa finestra oppure cliccate sopra qui e ve l'apre. Quindi io metto il mio account. E qui la mia password che è la stessa della registrazione che ho registrato quando sono entrata la prima volta nel loro sito. E faccio invia. Ora mi fa l'autentificazione. L'autenticazione. E vedete qui? Vengono riportati tutti i miei file che sono anche di sopra. Però cosa c'è di buono questo? L'ho già spiegato in un altro video. Che qui viene salvato in un server online. E tutte le volte che vogliamo possiamo scaricare tutte le volte che vogliamo non è come quando andiamo nel loro sito che abbiamo solo tre possibilità. Dopodiché quelle tre non ci fa più se perdiamo i file non ce li fanno più ritrovare. Invece ora con questo sistema qui ogni qualvolta che vogliamo possiamo scaricarceli. E vedete qui sono tutti i miei disegni. Questo serve anche ora che avete fatto la registrazione e quando collegate la macchina al pc automaticamente vi vengono messe dentro a queste cartelle. Ed è anche i disegni che comprerete con i 25 dollari. Poi vi faccio vedere come. Scusatemi. Ora. Fatto questo vi faccio vedere dove dobbiamo andare a mettere il codice. Dobbiamo cliccare su questa icona qua. E ci apre questo. Noi dobbiamo andare a pagamento e info. E qui dobbiamo mettere il codice che ci hanno mandato in mail. E poi fare app. Dopodiché facciamo continua. E abbiamo. Vedete qua su. I 25 dollari. Di disegni. Ma attenzione. Dobbiamo scaricarli entro un mese. Dopodiché se non li avete scaricati si azzera e non potrete più usufruire dei disegni gratuiti. Ok? Bene. Io con questo spero di avervi detto tutto. Se c'è qualche cosa lasciatemi dei commenti o che ho lasciato indietro, ho tralasciato qualcosa. Fatemelo sapere. Rifarò un altro video per quella determinata cosa. Io spero di essere stato di aiuto e che vi abbia fatto piacere avervi fatto questo video di come scaricare il software. Con questo è tutto. Iscrivetevi al mio canale. Mettete un commento o mettete mi piace o non mi piace. Non ha importanza. Cioè, non ha importanza. Accetto tutto. L'importante è che mi aiutate a far crescere il mio canale. E iscrivetevi al mio gruppo. Sulla Silhouette che avrete una sorpresa per ogni utente che compra la Cameo. Per ora è tutto. Vi ringrazio e ciao al prossimo video.